Molti non sanno che uno dei primi pomodori visti in occidente è di colore giallo. Poi nel corso del tempo, della storia, è diventato appunto rosso e siamo abituati a consumarlo e ad acquistarlo rosso. Oggi il pomodorino giallo, il datterino giallo, è tornato in commercio e possiamo così gustarlo in varie preparazioni. Allora abbiamo dovuto realizzare questo farro minestrato, anzi risottato, con dei piselli e i datterini gialli. Alla fine questo piatto viene poi mantecato con dell'olio e del montasio. I passaggi fondamentali per realizzare questo piatto sono come prima cosa realizzare un brodo vegetale. Dopodiché in una casseruola viene messo dell'olio, uno spicchio d'aglio e la passata di datterini gialli. Passati 4-5 minuti viene aggiunto il farro che abbiamo precedentemente sciacquato con dei piselli e si continua a bagnare con il brodo vegetale in emozione. Giunti a cottura si va a mantecare con del montasio rattugiato e dell'olio. Grazie. 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 Grazie.